Ma se io non risolvo l'enigma, cosa succede? Rimango chiuso dentro? Sì, 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 diventi di mia proprietà. Ciao e bentornato nel mio canale. Io sono Pietro Costanzo e questo è Talk Story. Anche oggi intervisto una di quelle persone che conosco da un sacco di tempo e che ovviamente mi ha colpito. Mi ha particolarmente divertito anche nelle varie volte in cui ci siamo visti e in cui abbiamo chiacchierato. Sto parlando di Diego Trinetti che è titolare di un escape room, si chiama Mystery Escape. Ciao Diego! Ma buongiorno! Senti, ma secondo te qual è l'età giusta per poter venire a giocare e quindi godersi questa esperienza? Ma allora, lo zoccolo duro secondo me della clientela va dai 18 ai 50 anni. Però ti posso garantire che nella mia escape abbiamo delle partite adatte per i bambini. Quando iniziano a crescere sopra gli 8-9 anni, che non sono più da gonfiabili e da parco giochi, ma iniziano a volere qualcosa di più, allora l'escape room secondo me era una di quelle idee che poteva essere adatte per i bimbi. E allora ho fatto anche delle stanze per... cioè la stanza è sempre la stessa, l'avventura però cambia ed è dedicata ai bambini. Quindi sia bambini sicuramente 18-50, ma poi vedo anche tante famiglie con genitori di 60, 70, 80 anni. Va bene per tutti. A proposito di bambini, quindi secondo te è meglio venire a giocare con i genitori o con gli amici? No, allora credo con gli amici. I genitori possono venire ad accompagnarli sicuramente, anzi noi facciamo una partita in contemporanea. Quindi per non disturbare i bambini, per farli sentire più grandi, chiediamo ai genitori di poter fare magari un'altra avventura e i bambini invece farli giocare da soli. Bambini intendo sempre minimo 8-9 anni, sotto gli 8 anni si può fare, diciamo che dai 6 in su si può fare, però accompagnati. Dagli 8-9 invece si può già fare da soli tranquillamente. Ma se io non risolvo l'enigma, cosa succede? Rimango chiuso dentro? Sì, diventi di mia proprietà a tutti gli effetti. No, assolutamente. Però è vero, è una delle domande che fanno in tanti. Una volta che c'è l'ora di gioco, terminata l'ora, il Game Master, poi magari dopo ci addentreremo nei discorsi, vi porterà fuori semplicemente dalla porta d'ingresso e non da quella d'uscita, qualora ci fosse una porta d'uscita. No, non vi lasciamo dentro. Però diciamo, non esci dalla fine del gioco, ma esci dall'inizio, perché altrimenti ti svelo il gioco. Sì, lì bisogna capire la percentuale di riuscita della stanza, nel senso che noi, per esempio, per politica aziendale, una volta superato l'80% della stanza, preferiamo spoilerare il finale. Nel senso che comunque non ci sembra corretto richiedere dei soldi ad una persona per rigiocare semplicemente un 20% che non ha scoperto. Certo, certo. Ok? Mentre sotto l'80% è a discrezione del cliente, quindi gli diciamo, vuoi sapere il finale o vuoi tornare a giocare? Sotto il 50% invece non diciamo il finale e consigliamo di tornare a giocare. Senti Diego, ti andrebbe di giocare alla random box? Ma assolutamente sì, random box. Come si fa? Allora, questo è lo spazio in cui solitamente la nostra random box vuole scoprire come funziona un'attività. Ecco, nel caso dell'escape room, cosa puoi farci vedere? Allora Pietro, considera che l'escape room è una cosa molto segreta, nessuno può vedere all'interno, altrimenti ci brucieremo il 50% dell'avventura. Però adesso ti condivido lo schermo e ti faccio vedere un giochino che ho preparato, un enigma su come aprire un lucchetto. Esatto. Allora, questo qua è un enigma, come vedete, poi magari lo possono fare anche chi sta guardando l'intervista può scrivere nei commenti la soluzione. Immaginatevi la scena, avete un maniaco dietro di voi che sta arrivando per uccidervi, poi avete una porta davanti che è chiusa con un lucchetto a quattro cifre. Avete degli indizi, quindi il primo indizio sapete che l'ultima cifra è un 7. Ci sono una serie di indizi, di indovinelli per poter trovare le altre tre cifre mancanti del lucchetto. Sì, ci sono dei suggerimenti come ad esempio 6, 8, 2, un numero è corretto ed è posizionato bene. Esatto, quindi sapete di quelle tre cifre, le prime tre cifre, uno di questi qua è proprio posizionato nella maniera giusta. Poi andando avanti, 2, 0, 6, due numeri sono corretti ma non posizionati bene. 7, 3, 8, niente è corretto. Questo è fondamentale, io partirei da qua, l'ho detto, ho dato il suggerimento. 6, 1, 4 è un numero, un numero è corretto ma non è posizionato bene. E l'ultimo abbiamo 7, 8, 0, un numero è corretto e non è posizionato bene. Qua adesso siamo al PC, siamo in webcam, in videoconferenza, quindi è anche più facile e rilassante. Vi posso assicurare che un enigma del genere all'interno di una room, con la musica horror o thriller nelle orecchie, con l'ambientazione giusta, luci soffuse, ha insomma un po' di ansia. Poi magari qualche effetto ogni tanto che fa percepire che questo manioco si sta avvicinando. Sì, nell'escape ti crea tutta molto più adrenalina, molto più agitazione, di quelle buone, nel senso che comunque è bello viverla in realtà, non c'è nulla di così trascendentale. Quante stanze, quante avventure ha la tua Mystery Escape? Allora, diciamo che dopo il primo lockdown, dove appunto stiamo parlando all'inizio delle attività, hanno sofferto un attimino, ho dovuto ridimensionare un attimo le avventure di Mystery Escape. Siamo arrivati pre-lockdown ad avere cinque avventure e addirittura avevamo una sesta in progettazione. Ora abbiamo dovuto appunto ridimensionarci, ne abbiamo due. Una si chiama La Baita, che è un thriller horror. E poi ci sarà una nuova avventura che è già pronta, è ultimata, me che vale, che cercheremo di lanciarla qualora qualsiasi capo del governo dice domani potete aprire. Allora così lancieremo questa nuova avventura. Ok, ok, va bene. Diciamo che quindi il lockdown e comunque la pandemia, insomma, in qualche modo si è fatta sentire. Sì, si è fatta sentire molto perché nonostante incomprensibilmente, perché non è comprensibile il fatto che un'attività come la nostra con quattro giocatori in un'ora, spesso anche familiari, fidanzati, mogli e mariti, non possano entrare, mentre in altre tantissime attività vedi massimo 200 persone, massimo 100 persone, ma anche i supermercati stessi. Inizialmente nel primo lockdown c'erano degli ingressi scaglionati, adesso invece ti capita di andare al supermercato qualsiasi a essere almeno una cinquantina in pochissimo spazio. L'escape room, ma non solo le nostre, i parco giochi, tantissime cose sono state penalizzate ingiustamente. Noi sanificavamo ad ogni partita, avevamo degli spray appositi da passare sulle superfici, si giocava con la mascherina. Insomma, avevamo adottato tutto, però alla fine probabilmente lo Stato si è dimenticato del mondo ludico, che è una cosa molto grave, perché è una valvola di sfogo per la gente. Adesso ci sono tante persone che soffrono di stress e di ansia, i dati li avete visti tutti, e l'escape room, il gioco in generale, potrebbe essere appunto una valvola di sfogo per tutti e aiutare anche determinate patologie, in realtà è così. Come ti è venuta in mente l'idea di aprire un escape room? Abbiamo detto che comunque tu arrivi dal mondo degli eventi, sei un prestigiatore. Questo ha influito oppure era una passione che avevi? No, è una passione che avevo, la passione dei giochi, giochi in scatola, l'ho sempre avuta. Me lo chiedo anch'io in realtà, perché ho perso in un escape room? Me lo chiedo ogni tanto. In realtà sono andato con mogli e amici a giocare, è un'esperienza a Milano, una delle prime che ha aperto. Mi sono divertito molto, questa ora è volata, e il proprietario mi fece una proposta. Mi disse, ma perché non aprire un franchising col mio marchio? Io oltre ad essere nel mondo ludico, sono anche imprenditore dentro, e ho detto, no, se devo aprire non apro per i fatti miei. Così, io con un amico che appunto era venuta quella sera, era settembre, era settembre 2015, a gennaio 2016 avevamo già l'escape room fatta e finita. Come due pazzi ci siamo buttati, siamo rimasti nel mondo dell'imprenditoria in realtà, perché avevamo sempre altro con questo ragazzo, con Federico, che è il mio socio, avevamo un'altra attività insieme, e abbiamo continuato anche con questa. Senti, ma che tipo di preparazione, studio, ricerca, c'è nel creare un'avventura all'interno di un'escape room? E allora, tanti mi dicono che sono malato, nel senso buono, perché io l'escape le ragiono totalmente da solo, io e il mio socio ovviamente, le ragioniamo noi da zero, quindi pensiamo ad una storia e poi realizziamo anche il contenuto, quindi fisicamente la carta da parati, il soffitto, le luci, tutto. Poi io sono una persona che è molto brava a livello manuale, quindi lavori di falegnameria, fabbro, queste cose qua, me ne occupo io, mentre il mio socio è più dalla parte elettrica e elettronica. È un buon collubio, ci mettiamo assieme e riusciamo poi a organizzare totalmente una stanza da zero. Ti andrebbe di giocare per la seconda volta la nostra random box? Assolutamente sì, perché sono curioso, voglio vedere cosa salta fuori da questa box. E allora random box! Che cos'è quello? Allora io sono andato sui vostri social, sito e ho recuperato delle immagini, perché insomma di gente ne è passata dalla vostra mystery, vero? Sì, ne sono passati proprio tanti, comunque in cinque anni di attività, e considera che nella vecchia sede, quella ormai appena chiusa, era una delle più grandi in Lombardia. Certo, certo. Quindi comunque era una buona stanza. Dai, vediamo qualche immagine allora. Allora, questi qua sono due producer molto famosi in Italia, uno è Chris Nolan e l'altro molto più conosciuto ovviamente è Charlie Chars, producer di Mahmood, producer di Sfer e Basta, eccetera. Charlie è passato tante volte, è passato tante volte, avevamo quattro avventure, è venuto tre volte, tra l'altro c'era sempre fatta. Proseguiamo, ho ovviamente scovato un'altra immagine. Ah vabbè, questo è un amico, quello con in mano il diamante si chiama Leo Valli. Leo Valli, vabbè, attore, poi ha lavorato con Bonolis, Urca, tutti quei programmi degli anni 90, quindi io e te magari ci ricordiamo ancora, magari i più giovani no, ma ti do una chicca, Leo Valli è la voce ufficiale italiana di Topo Gigi. Ah, davvero? Eh, sì, lui è un amico, era passato proprio agli inizi, tra l'altro, difatti aveva in mano un'oggettistica di Art Gallery, che era la primissima avventura che avevamo creato per Mystery School. Ok, ok, ultima immagine che sono andato a scovare in giro per i social. Eh, vabbè, questi, dai, sono famostissimi, legati al mondo della musica, DJ Spine e Wender, che sono due registi, Radio 105, sì, sì, sono due registi di Radio 105, per un evento, eccetera, spesso ci incontriamo, lo sai, con i VIP per il mio secondo lavoro. Sì, ma ne sono passati tanti altri, comici di Colorado, di Zedig, giocatori di pallacanestro, tanta, tanta gente si è affidata al marchio Mystery Escape e sono contento, perché questo vuol dire che c'è un buon passaparola e c'è un prodotto che funziona, altrimenti non vedresti gente di un certo caso. Bene, bene, bene. Sono andato a fare un giro sul vostro sito, MrEscape.com, e ho visto che è attivo un crowdfunding. Di che cosa si tratta, Diego? Sì, esatto, abbiamo aperto un crowdfunding sul nostro sito per farci aiutare, da chi vuole, dai nostri clienti, dagli amici o dai curiosi, per trasferire Mystery Escape dal luogo in cui eravamo alla nuova location. Crowdfunding è una raccolta soldi, se qualcuno ve li vuole dare, ve li dà col cuore, eccetera. Altrimenti no, qualcuno non lo fa per vergogna, però non è che vi sto chiedendo qualcosa, io sto mettendo a disposizione un servizio, chi se la sente può donare, altrimenti no, qualcuno l'ha già fatto, lo ringrazio, ovviamente non vado ancora in giro con un Lamborghini, però sono quelle situazioni che ti possono aiutare ad andare avanti. Quindi ribadisco, il periodo è sempre quello e quindi qualsiasi persona, qualsiasi cifra dà una mano a questo progetto. Guarda, io poi ovviamente qui sotto metterò anche il link al sito per poi ovviamente partecipare. Senti, ma raccontami un pochino come funziona tutto il mondo dell'escape room, cosa intendo dire? Quello che c'è dietro le quinte, no? Cioè le persone entrano nella stanza, giocano, ma voi che siete un po' i game master della situazione, anzi siete game master, cosa fate? Cosa avviene dietro le quinte? Muovete le sagome alla fantozzi? No, non lo so. No, non muoviamo le sagome. Sì, allora, noi siamo dei game master, quindi siamo quelle persone che seguono tutta la partita dall'inizio alla fine. Inizialmente il contatto, il cliente ce l'ha proprio con noi, dove facciamo un briefing alla persona, spieghiamo l'avventura, spieghiamo il regolamento, perché anche c'è proprio un regolamento, come aprire lucchetti, come comportarsi all'interno di un escape room, varie firme della privacy, eccetera, eccetera. Una volta che il gruppo è entrato all'interno della stanza, noi li seguiamo tramite dei computer e delle telecamere. I clienti sono video sorvegliati per tutta l'ora e hanno a disposizione degli aiuti. Quindi tramite, noi personalmente, che siamo abbastanza tecnologici, tramite dei monitor all'interno delle stanze, possiamo scrivere, possiamo mandare dei video, mandare delle immagini per aiutare i clienti qualora questi lo chiedessero, ovviamente. Poi invece ci sono degli aiuti che arrivano in automatico, perché già magari la storia li chiede. Ci divertiamo, perché comunque è come se fosse un grande fratello, sbirciamo un po' i clienti, vediamo i loro comportamenti bizzarri, però poi bisogna anche stare super attenti, perché un errore del game master potrebbe compromettere totalmente la partita. Ok. Senti, e in quanti possono giocare ad un'avventura? Allora, lì dipende dalla capienza della stanza. Noi le due nuove di cui ti parlavo, abbiamo Byte e quella medievale, Byte diciamo 6-7, mentre quella medievale 7-8. Se è vero che l'Escape Room in questo momento, diciamo, è in fase di rielaborazione, tu però in questo periodo hai comunque continuato a lavorare, hai creato un libro, vero Diego? Sì, esattamente, si chiama Escape Room, fuga dalla stanza, è un manuale più che un libro. Praticamente ho voluto scriverlo per dare risposta a quelle domande che spesso mi fanno i clienti. Quindi quelli più curiosi, magari addirittura su come aprire un Escape Room. Allora c'è un capitolo dedicato proprio a questo, dove io, in base alla mia esperienza ormai di oltre 5 anni, dico tutto quello che ho imparato in questi periodi, andando proprio nei numeri spiccioli, perché comunque è un'attività imprenditoriale, quindi ragazzi non si scherza. Le altre curiosità, per esempio, derivano dai clienti normali, invece alcuni ti chiedono, appunto, ma se finisce il tempo rimango dentro, quindi do risposta anche a queste cose. Però, insomma, cosa succede all'interno delle stanze, per esempio, come i clienti, le stupidate che dicono, a volte si chiudono magari nei mobili, fanno spaventare gli amici. C'è una bellissima prefazione anche di Giovanni Portelli, che è un amico, uno dei migliori recensori in Italia. E poi tantissimi consigli, come affrontare la prima volta, dove andare per la prima volta, come dove trovare le migliori Escape Room in Italia e non solo. Insomma, un bel manuale fatto molto bene, che trovate su Amazon e in diverse librerie qui a Milano, insomma, nelle nostre zone. Magari poi si diffonderà in tutta Italia. Ovviamente poi trovate il link qui in descrizione. Senti, hai parlato di curiosità, cose divertenti che succedono, insomma, che capitano durante le varie avventure. Ne hai una magari da leggerci, dai? Ma sì, allora, in realtà ce ne sono tante nel libro. Oltre ai calcoli, quelli matematici, dove la gente è convinta che un calcolo sia giusto, invece è completamente sbagliato. Ma cose facili, cioè tipo uno più zero fa zero, cose del genere e quindi mettono il numero zero nella combinazione, associano lettere tipo B bianco, R rosso, quindi 2 bianco e 3 rosso. Ma in base a cosa? Queste cose del genere. Una delle più belle, per esempio, leggo in fondo, a pagina 50, c'è un'esclamazione di un ragazzo che davanti a un puzzle tutto colorato, uno di questi ragazzi dice, raga, ma fate fare il puzzle all'unico daltonico della spalla. Effettivamente. Noi addirittura, pensa, le scrivavamo sul muro della nostra regia. Tra questa annotazione ho deciso qualcuna di metterla anche nel libro perché erano veramente divertenti. Esatto, esatto. Ti ricordo che ovviamente puoi partecipare anche tu al gioco dell'escape room che prima, insomma, abbiamo visto con Diego. Lo rimetto, ecco, così possiamo vederlo insieme. Cerca di risolvere l'enigma e ovviamente lascia un commento con la risposta. Questo qua è un piccolo giochino che si trova spesso online, ce ne sono tanti. Questo era uno, giusto per dimostrarti, che è uscito dalla mia random box. Avete alle calcagna un maniaco che vuole uccidervi, un lucchetto davanti con quattro cifre, dovete trovare le quattro cifre. Io vi ho già messo l'ultima, che è sette. Le altre trovatele voi, commentate. Magari possiamo fare una cosa. Quando riapriremo, chi arriverà con la soluzione da Mr. Escape avrà uno sconto per la nuova avventura. Sei veramente un grande. Carino, carino. Diego, grazie mille della tua disponibilità. Grazie a te, Pietro. Sono stato contento di fare questa chiacchiera e vienimi a trovare da Mr. Escape perché l'avventura nuova, quella medievale, non è stata nemmeno tu. Quindi appena riapriremo ti aspetto. Molto volentieri. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, come sempre, iscriviti al canale, ma poi soprattutto commenta. Dai anche tu la soluzione a questo gioco, a questo enigma. E poi ovviamente clicca sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche. Noi ci rivediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye! Noi ci rivediamo. 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 Grazie.